Termini, modalità e fonti di finanziamento al fine di coprire gli oltre 46.000 tirocini in Sicilia del progetto Garanzia Giovani. Li ha chiariti l'assessore regionale alla famiglia e al lavoro, il nisseno Gianluca Miccichè. Per quanto riguarda i primi 30.000 tirocini, il costo complessivo è di 87 milioni di euro, più quelli destinati agli enti promotori privati. La somma destinata ai tirocinanti, dice l'esponente della giunta Crocetta, è stata versata dall'Inps per importi pari al 96% del totale. Per quanto riguarda i rimanenti 16.000, la somma prevista è di circa 46 milioni di euro. Di questi 20 milioni sono già stati autorizzati da Roma e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha già la disponibilità a pagare. Per quanto riguarda il rimanente 26% del totale, si stanno rimodulando risorse dalla linea di intervento 7.2 che ammonta a 31 milioni di euro. Così facendo, spiega l'assessore Miccichè, si potrà anche in questo secondo caso procedere al pagamento dei tirocinanti che hanno presentato domanda entro l'8 ottobre del 2015. Ci sono novità anche in merito ai lavoratori del reddito minimo di inserimento. Lo stesso assessore ha firmato il decreto per il piano RMI di 9,4 milioni di euro. Il 20% è dedicato al piano di fuoriuscita dei soggetti che ne hanno fatto richiesta al 17 aprile scorso. L'80% invece interessa il piano di riparto per i lavoratori rimasti. Il prossimo mese, durante l'assestamento di bilancio regionale, il fondo per gli RMI sarà rimpinguato al fine di dare completezza del progetto fino alla conclusione dell'anno. E' dunque per pagare la restante parte dei lavoratori fuoriusciti. Soddisfazione per i provvedimenti adottati da Gianluca Miccichè, che interessano numerosi cittadini ingelesi, è stata manifestata dal segretario cittadino dell'Udc, Salvatore Incardona, e dal consigliere comunale, Giovanni Panebianco. Salvatore Incardona